Buongiorno a tutti, sono il professor Antonio Avezza, sono il direttore della cattedra di endocrinologia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, nonché il responsabile dell'ambulatorio di andrologia regionale della Regione Calabria. Sono qui ospite del professor Antonini questa giornata, impianto di protesi peniena tricomponente, intervento riuscito perfettamente sul paziente di 72 anni vasculopatico, sono rimasto molto impressionato dalla tecnica intraoperatoria e dalla riuscita dell'intervento che come vedrete poi dalla registrazione ha avuto un risultato più brillante dell'inizio, nel senso che il pene aveva un piccolo recurvatum che è stato corretto dall'impianto protesico. Sono molto contento di aver assistito, di essere stato il terzo operatore e ringrazio il professor Antonini per l'ospitalità.